Amici di Cusano Italia TV e di Crimini e Criminologia, benvenuti a questa puntata veramente speciale in tanti che ci state seguendo, magari siete al corrente grazie agli organi di informazione, tanti organi di stampa che hanno già annunciato questa puntata speciale di Crimini e Criminologia e anche naturalmente al mondo dei social. Con la regia di Alessio Tancorra andiamo a dare la buona serata anche al mio compagno di viaggio Gabriele Rao, buonasera. Buonasera a te Fabio e anche ovviamente a tutti coloro che ci stanno seguendo, spero che questa sera, data l'importanza, il rilievo del tema che stiamo per affrontare, vorrete interagire in tanti, soprattutto con i nostri ospiti. Passerei quindi a dare subito i recapiti, i nostri recapiti. Potete scriverci un sms o tramite whatsapp al 334-92-29-505 oppure il nostro indirizzo mail è sempre a disposizione per accogliere anche eventualmente suggestioni, consigli di casi, di vicende di cronaca da affrontare ed è crimini.cusano.tv.gmail.com. Mi raccomando, qualunque dubbio, qualunque eventuale anche curiosità, domanda da rivolgere ai nostri ospiti, scriveteci. Ospiti prestigiosi, importanti, tra poco li presentiamo ma introduciamo il tema, come detto molti magari sanno di cosa parleremo, per chi non lo sa. Lo andiamo a scoprire con i nostri titoli. Cominceremo ovviamente parlando di Emanuele Orlandi, le inchieste della Commissione parlamentare e poi le lettere anonime, il mistero in Vaticano sotto la lente di ingrandimento, 40 anni di bugie e depistaggi e poi torna crimini nei cieli, la bomba di Ustica. Quale pista seguire, anche questo appuntamento farà molto discutere, ma è soprattutto una puntata speciale dedicata a Emanuele Orlandi e per questo vi presento subito colui che è in studio insieme a un altro ospite, ma ovviamente riflettori puntati, su Pietro Orlandi. Buonasera Pietro, grazie per essere qui con noi insieme a Mauro Valentini, buonasera, giornalista e scrittore, peraltro la maglietta di Pietro significativa, a comuna Mirella Gregori ed Emanuele Orlandi e ricordo che Mauro Valentini ha scritto un libro, proprio cronaca di una scomparsa dedicato a Mirella Gregori. Come avete visto dal titolo e possiamo anche rivederlo, intanto Alessio Tancorra ci regala questo primo piano della maglietta di Pietro Orlandi, poi ci dirà anche a che periodo risale questa maglietta. Vedete il titolo che avevamo già lanciato, inchieste, commissione parlamentare e lettere anonime. Ricordiamo, questo 2023 sta per chiudersi, ci avviciniamo al Natale, l'inizio del 2023 è stato caratterizzato dopo la morte del Papa Emerito, Joseph Ratzinger, dall'apertura di un'inchiesta in Vaticano per la prima volta, poi la riapertura dell'inchiesta su Emanuele Orlandi alla Procura di Roma e da ultimo la commissione parlamentare bicamerale di inchiesta, finalmente ha ottenuto l'ok anche del Senato. ma lettere anonime, le tante che riceve quotidianamente, purtroppo la famiglia Orlandi, molte hanno portato a qualcosa ma poi ci sono stati enigmi su enigmi legati, soprattutto mi riferisco alla vicenda del cimitero teutonico, a quelle famose tombe, ma recentemente, poi la sveleremo nel secondo capitolo, è arrivata una lettera alla mia attenzione presso Radio Cusano Campus, qui all'Università Niccolò Cusano, quindi poi la commenteremo anche con Pietro perché poi questa lettera di fatto è arrivata anche alla famiglia Orlandi. Io direi però di riassumere quello che è accaduto in questo anno, come detto che sta per chiudersi, ripercorrendo le varie tappe con la scheda firmata Aurora Vena, vediamo. 9 gennaio 2023. A 40 anni dalla scomparsa, la magistratura vaticana riapre il caso su Emanuele Orlandi. La notizia arriva quando sono ancora fresche le lacrime versate dalla comunità cattolica per la morte di Papa Benedetto XVI, tanto che molti ipotizzano un nesso. La decisione del promotore di giustizia Alessandro Diddi di rimettere mano al fascicolo Orlandi è festeggiato come una vittoria da parte della famiglia, che parla da tempo di un dossier mai reso pubblico. L'iniziativa della magistratura vaticana si muove nel solco della ricerca della verità e della trasparenza a tutti i costi, voluta da Papa Francesco, recitava la nota della Santa Sede. 15 maggio 2023. Anche lo Stato italiano decide di indagare per la terza volta su uno dei casi di sparizione più impenetrabili d'Italia. La Procura di Roma riapre le indagini sulla scomparsa di Emanuela con la collaborazione dei PM del Vaticano. Il procedimento, avviato dopo che il CSM aveva chiesto informazioni su un esposto presentato al Consiglio dai familiari, riaccende le speranze proprio alla vigilia del quarantesimo anniversario della scomparsa della cittadina vaticana. 9 novembre 2023. Il Senato approva la commissione parlamentare di inchiesta Orlandi Gregori. Il voto, arrivato dopo diversi rinvii e un dibattito piuttosto acceso, è stato accolto da un lungo e caloroso applauso da parte dell'Assemblea, che ospitava in tribuna anche i familiari di Emanuela. Una terza indagine che segue logiche e forme diverse sarebbe un'intromissione anche perniciosa di sedi di inestate in audizione all'ufficio di Presidenza per la discussione sull'istituzione della bicamerale. Questa commissione potrà fare tanto più di quanto può fare l'inchiesta vaticana, afferma invece convintamente Pietro Orlandi a margine del voto a Palazzo Madama. Santa Sede, Procura e Parlamento. Tre soggetti su tre strade che necessariamente si intersecheranno tra loro. Tre opportunità per trovare la verità sulla quindicenne cittadina vaticana, scomparsa a Roma il 22 giugno 1983. Il servizio firmato Aurora Vena a proposito dei passaggi importanti che ci sono stati in questo 2023 relativamente alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Continuiamo a usare il termine scomparsa, ma sappiamo che si trattò di rapimento. Con Gabriele Rao però ora dobbiamo anche così evidenziare una nota di colore che caratterizza il nostro studio. Sì, un piccolo inciso prima di entrare nel vivo di questa vicenda. Tre date di riferimento, l'8, il 9 e il 10 dicembre. Queste saranno le giornate in cui moltissime piazze italiane, ben 4.500, ospiteranno anche quest'anno il tradizionale appuntamento con le stelle nazionali dell'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Vediamo anche lo studio in qualche modo attrezzato con questo rosso così sfolgorante. L'iniziativa, lo ricordiamo, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 35esima edizione, ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti legati alla ricerca scientifica che hanno già dato dei risultati tangibili e che speriamo di poter, nel nostro piccolo, contribuire ad aumentare. Giusta nota da sottolineare a proposito di questa sempre costante e bella iniziativa dell'AIL, 35esimo anno delle stelle di Natale e non solo dell'Associazione Italiana contro le leucemie, nella lotta alle leucemie, tumori, linfomi. Adesso partiamo con il nostro Pietro Orlandi, puntando i riflettori, anticipo, ricordo, poi nel secondo blocco, dopo le 22, sveleremo quest'altra lettera anonima, quella che ci ha riguardato più da vicino, perché purtroppo, come detto, Pietro è abituato a riceverne tantissime. Però la data più recente, 9 novembre, lo diceva anche la scheda di Aurora Vena, finalmente il Senato dà l'ok alla commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta, ma ci sono tanti ma, soprattutto l'iter che dopo la Camera sembrava procedere spedito e invece poi il tutto si è impantanato e è arrivato l'ok definitivo solo il 9 novembre. Ma ci sono tante altre cose che a Pietro Orlandi non piacciono, non convincono, cosa potremmo dire? Non piacciono, nel senso che dopo 40 anni è dura, da sicuro, perché veramente, poi in fondo noi cerchiamo verità e giustizia e trovare sul cammino di questa ricerca della verità e della giustizia, trovare continuamente degli ostacoli che rallentano tutto diventa pesante. La commissione sono contentissimo che sia passata al Senato, alla Camera era stata accolta all'unanimità a marzo, vedo fine marzo, e mi avevano detto guarda tranquillo perché me lo disse il Presidente della Camera. Ti chiamò in persona? Sì, mi chiamo a casa, entusiasta di questa cosa, vedi ce l'abbiamo fatta, mi dai una cosa importante, adesso va alla Camera, ma alla Camera ci metterà pochi, alla Camera, scusa, al Senato ci metterà pochissimo tempo. E invece quel poco tempo non c'è stato, nel senso che le intenzioni c'erano, però è stato evidente quello che è accaduto, era una cosa che non era gradita al Vaticano e ha fatto di tutto per impedire, per rallentare. E ci sono stati vari rallentamenti, se vuoi dopo ne parliamo, però ci sono stati vari rallentamenti. E sono contento che comunque alla fine, nonostante la volontà del Vaticano a frenare questa commissione, alla fine, dopo varie rinvii, il 9 sia passata, perché è stata passata quasi all'unanimità, nel senso che è stato un astenuto e uno contrarissimo, perché ha detto delle cose veramente imbarazzanti, però alla fine ha accettato lo stesso pure il passaggio alla commissione, quindi diciamo è stata votata all'unanimità. Quindi entusiasmo al massimo, io ho l'applauso c'è stato del Senato, verso di noi che stavamo in tribunetta, quindi i discorsi che ho sentito in aula, ripeto, tranne uno, quello di Gasparri, è stato veramente assurdo le sue giustificazioni. Era il no di Gasparri. Sì, lui era proprio contrario. L'ha stenuto per Ferdinando Casini. Anche lui ti ha dato un po'. Casini si è astenuto. A te non è piaciuta l'astensione, avresti preferito il no? No, perché ha detto che rispetto alla famiglia non voto, mi astengo. Beh, l'astensione è stata una mancanza di rispetto, secondo me, perché non hai preso una decisione. Tu sei un senatore della Repubblica, sta lì per prendere delle decisioni, non per astenerti. Quindi Gasparri ha detto delle cose, mi è dispiaciuta quasi l'arroganza, la cattiveria. Lui in quel momento, secondo me, lui si è dimenticato di essere un senatore della Repubblica italiana perché sembrava un rappresentante del Vaticano al Senato, perché ha messo in mezzo delle cose, dimenticandosi che l'inchiesta era anche su Mirella Gregori. Quindi ha parlato solo di Vaticano, il Vaticano, questa cosa. Si è capito chiaramente che lui non ha messo in mezzo le solite questioni di WT, o ai trisanti non si toccano, tutte cose che non c'entrano niente con l'inchiesta. Comunque si è passata, io contentissimo di questo fatto, lo ammetto, sono contento perché è stata una vittoria dopo tanto tempo riuscire. Un grandissimo risultato. E quindi dopo un po', è passato un mese adesso, ho chiesto ma adesso tutti quanti i partiti devono presentare i nomi delle persone che faranno parte di questa commissione. E se è una cosa che teoricamente dopo un anno, un'idea di chi potesse far parte della commissione, ogni partito la dovrebbe avere. 20 da una parte e 20 deputati della Camera. E ho detto, qualcuno l'ha presentato, entro quanto tempo devono presentare questi nomi? E mi hanno detto, ma no, questa clausola del tempo non è stata inserita, quindi non c'è un limite di tempo. Quindi se quell'uscita criticata da me di Gasparri, però gli siamo in democrazia, quindi ognuno è libero di pensarla come vuole, non faccio neanche una questione politica, la politica non c'entra assolutamente niente in questo. Però lui l'ha detto pubblicamente, però sicuramente la mia paura è che c'è qualcuno che lo pensi e non l'abbia detto. E a questo punto però se, diciamo la verità, se c'è qualcuno che vuole ancora ulteriormente rallentare, che vuole rallentare e portarla avanti per tanto tempo, finché tutti i partiti non presentano i nomi delle persone che faranno parte della commissione, la commissione può partire, perché solo quando saranno presentati tutti i nomi verranno convocati da Presidente di Camera e Senato, eleggeranno il Presidente della commissione e da lì avranno dieci giorni di tempo per farla partire ufficialmente. Ma finché tutti i partiti non presentano i candidati... Quindi quello che poi in gergo politico si chiama istruzionismo parlamentare... Io mi auguro di no, spero di sbagliarmi. Spero di sbagliare, spero che questo appello che stiamo facendo adesso spinga in qualche modo quelle persone di buona volontà che c'erano, perché io ti assicuro che ho incontrato tantissime persone... Beh, l'intusiasmo del Presidente della Camera era abbastanza valese, no? Sì, ma non c'è stato un freno da persone che ho contattato, però non capisco. Adesso stai capigruppo, capigruppo, convocare e dire chi è che si presenta per far parte della commissione... Tra poco sentiamo anche Mauro Valentini, una domanda da... Secondo te Pietro, diciamo, le mosse che ci sono state, di cui ha parlato anche Aurora Vena nel servizio, sia da parte della Procura in Italia, sia da parte del promotore della giustizia vaticana, hanno comunque rappresentato, come dire, degli stimoli per la politica affinché si capisse che auspicabilmente, anche dopo così tanto tempo, è impossibile un intervento netto per ottenere la verità? Beh, guarda, l'apertura dell'inchiesta da parte del Vaticano è arrivata dopo che la parte dell'istituzione c'era stata la proposta per aprire un'inchiesta. Quindi è una cosa successiva. Sì, perché, diciamo, io l'ho visto un po' come un atto dovuto, nel senso che c'era un'attenzione talmente alta, anche dal punto di vista mediatico, no? Il documentario di Netflix in tutto il mondo aveva alzato l'attenzione, dalla parte dell'istituzione c'era questa volontà, quindi questa mossa del Vaticano che io in quel momento ho visto come una cosa molto positiva, però io penso che l'hanno fatto, per quello che si è visto dopo, per quello che si è visto dopo un anno, l'hanno fatto e secondo me perché dovevano farlo. Io la sto vedendo, lo dico sinceramente, purtroppo, io la sto vedendo come una farsa. Cioè, quello che hanno fatto è brutto. Io guardo, io mi sento autorizzato... Ma da parte di chi? La farsa? Da parte delle pressioni esterne del Vaticano? Come è stata ridotta questa inchiesta? A me quando mi hanno convocato, sai Didi mi ha convocato, era partito a questa in chiesa, erano anni che chiedevo con l'avvocato di essere convocato perché avevo delle cose importanti che volevo verbalizzare, volevo dire, quindi questa convocazione per me è stata finalmente. Papa Francesco ha detto a Didi di indagare a 360 gradi, senza fare sconti a nessuno, dico questa è una volta buona. E io in quell'occasione però, e tutte le cose che mi hanno chiesto, le cose di cui ho parlato, i nomi che ho fatto, io lì ho capito che loro invece stavano lavorando su tutt'altro, stavano lavorando, in quello che poi è esploso con quella notizia che diede mentana, sulle accuse nei confronti della famiglia in qualche modo, spostando l'attenzione sulla famiglia, cose di cui non mi chiesero niente quel giorno. Se tu vuoi fare un'indagine all'interno della famiglia, mi convochi, mi fai delle domande, no? Non mi hanno chiesto niente di cui... E invece... Guarda, le persone, una delle cose che ci tenevo, ho detto, sai i famosi messaggi Whatsapp, no? Di cui ero venuto in possesso, di persone vicine a Papa Francesco, con telefoni riservati della Santa Sede, che parlano di Emanuela, di Tombaroli, e non solo di Tombaroli, perché con queste persone ci ho parlato dopo, al di là dei messaggi, e mi hanno detto altre cose, mi hanno detto delle cose importanti, mi hanno detto che quel passaggio, come dire, di Emanuela al cimiterio teotonico, in quella stanza trovata sotto le tombe, effettivamente c'è stato nel 2014, sono uscite fuori delle cose, mi hanno parlato di una cassa, e io non so che conteneva, cioè, mi auguro di noi, resti di Emanuela, dovevo mettere Emanuela le prove di quello che è successo, e questa persona mi ha detto, io l'ho portata, l'ha portata in un posto, te lo dico pure, non l'ho mai detto, perché io voglio stimolare la procura a chiamare questa persona, perché non l'hanno ancora chiamata, io l'ho sentita ieri, e lei, guarda, ero disposto pure a fare il nome perché sono stufato a un certo punto di queste persone, però voglio mantenere ancora la riservatezza del nome, perché la deno chiama o la procura di Roma, perché la procura di Roma ha questi documenti e i nomi di queste persone, e quella vaticana ce l'ha detto, non l'hanno mai chiamata, l'ha detto delle cose importanti, le cose che hanno trovato sotto questa stanza famosa, questa persona le ha portate e consegnate al cardinale Abrilla Santa Maria Maggiore, per depositare questa cassa, diciamo così, questa cassa, io chiamo cassetta, però non so il contenuto, però cose che riguardavano Emanuela, perché i messaggi parlavano solo di questioni legate ad Emanuela, e questa persona mi ha detto, guarda, se vuoi la prova del fatto che siamo andati lì, abbiamo fatto fare dei lavori, ha detto perché l'autorizzazione ai lavori ce l'ha dati il ministro dei beni culturali, che all'epoca era Franceschini, quindi Franceschini si conferma che un determinato giorno, perché io sono stati fatti dei lavori in un certo posto all'interno di Santa Maria Maggiore, io dico queste cose, ma al dia di questo una procura, che sia vaticana, che sia di Roma, che ha interesse veramente a tirar fuori la verità, anche per trovare il dubbio, perché magari questa persona è impazzita, mi ha detto un sacco di stupidaggini, ma tu la prima cosa che dovresti fare, avresti dovuto fare il giorno dopo, e convocare questa persona a dire allora che cosa è successo, ci porti là per queste cose, l'ho detta a Diti, Santa Maria Maggiore, Abril, la chiami e la porti là, chiami Franceschini e verifichi, e poi se questa persona ha detto le stupidaggini, ci togliamo il dubbio, altrimenti restiamo sempre con l'eterno dubbio su ogni cosa. Quindi prima o poi lo farai questo nome, adesso non lo fai. Naturalmente in commissione presenterò lo stesso memoriale che ho presentato ai due, ma questo nome ce l'hanno pure in procura, cioè ce l'hanno voi, i nomi di queste persone. Guarda, questo è un punto. Mauro Valentini. Io credo che loro, dico come famiglia Orlandi, siano continuamente vittime di sgambetti che continuano ad arrivare a tutti i livelli, con anche la sensazione che è abbastanza chiara e forte che ci sia qualcuno che voglia depistare, che voglia creare delle situazioni per metterli in difficoltà. È proprio una battaglia che sembra nascondere obiettivamente, proprio per i toni e per i modi e per le modalità, qualcosa di importante. Quello che mi dispiace è che questa commissione, come ha detto prima Pietro, dovrebbe lavorare anche su Mirella Gregori. E invece è praticamente uno scontro continuo tra Vaticano e storia di Emanuela. Mentre invece io direi che la commissione dovrebbe partire su due piani completamente diversi per cercare di capire se ci sono legami tra le due storie, ma se non ci sono legami tra le due storie, non si può costantemente concentrarci solo sulla storia di Emanuela e lo dico con tutto l'affetto del mondo nei confronti della famiglia Orlandi che è specchiato da parte mia, però mi dico anche come è possibile che tutto questo, quando si è creata la situazione in cui qualcuno ha accusato in maniera sciocca, in maniera scellerata e anche secondo me volutamente arbitraria delle parole che avrebbe mai detto Pietro rispetto al Santo Padre. Adesso te lo spiego se vuoi. Ma quando è stato questo, tutti quanti, cioè nessuno ha pensato che fermare, mettersi di traverso, creare un blocco nell'ingranaggio che si era aperto, comunque andava a cozzare anche con la storia di Mirella. Qui credo che ci sia ormai il tempo per poter fare sia un lavoro che l'altro, ne nomineranno 40, caspita, di 40 parlamentari e senatori, secondo me c'è la possibilità di lavorare su due piani e su due piani completamente diversi. Però ripeto, la cosa che colpisce di più è il continuo sgambetto. E io penso che tutti, molti, molti hanno perso di vista il fatto che loro, che Pietro, è una vittima e va aiutato, non va contrastato. E invece mi sembra che ci sia una sorta di battaglia continua nei loro confronti e io assisto, perché insomma siamo amici, assisto da 12 anni, 13 anni, 14 anni a questa continua battaglia nei loro confronti che non ha uguali nella storia del crimine e della cronaca italiana. Non è mai successa una cosa del genere. Ci hanno mandato qualche messaggio? Allora ancora la nostra redazione, probabilmente sì, stanno già arrivando, ma la nostra redazione non ha ancora filtrato. Sì, perché in genere poi li filtriamo, le leggibili li giriamo ai nostri ospiti. Però approfitterei ancora dei minuti che rimangono a nostra disposizione, Mauro, per rivolgerti, come dire, un po' più che una domanda, una considerazione. Ho avuto modo di confrontarmi ultimamente con molti, diciamo così, professionisti forensi di varie discipline. Devo dire che la sfiducia nei confronti dello strumento della Commissione parlamentare d'inchiesta è presso che è molto condivisa, è molto sentita anche un po' per i trascorsi, per i pochi successi del passato. Chissà che questa volta magari anche in ragione della forte appunto risonanza mediatica, che speriamo di poter contribuire a diffondere, le cose non vengano fatte in maniera un po' più certosina, un po' più attenta, insomma. Io credo che bisognerebbe scrollarsi di tosso questa paura di dover toccare le alte sfere del Vaticano oppure le alte sfere della nostra politica. Hanno la possibilità di farlo? Sono pagati per questo? Sono stati eletti per questo? Bene. Prendessero questi fascicoli, li aprissero e cominciassero a studiare perché evidentemente loro hanno la possibilità di fare quello che molti non hanno potuto fare. Bene, facciamolo, perché restituire la verità alla famiglia Orlandi e alla famiglia Gregori significa restituirla a tutta Italia e io credo che anche a livello politico, anche a livello di opportunità politica, avere un risultato del genere potrebbe essere anche un risultato politico, guarda un po' che dico. E quindi trovate questa occasione per poter dar pace e finalmente serenità a due famiglie che per 40 anni sono state presi a schiaffi, lo possiamo dire, no? Presi a schiaffi da tutti. Peraltro, visto che siamo in chiusura di primo capitolo, tra poco sveleremo anche il contenuto della lettera anonima che è arrivata al sottoscritto presso Radio Cusano Campus. Un saluto particolare, un abbraccio all'avvocato Laura Sgro che per una serie di motivi non è potuta intervenire questa sera né qui in studio né in collegamento. Volevo però mostrare, visto che poi in settimana c'è stata un'altra presentazione sempre al Senato, no? Sì, in un'aula del Senato. In un'aula del Senato, il libro Cercando Emanuela, il libro di Laura Sgro che comunque ci sta seguendo da casa e quindi la salutiamo. Eccolo qui il libro dell'avvocato della famiglia Orlandi a cui ho personalmente consegnato la lettera anonima di cui tra poco parliamo. Altra, invece in questo caso, digressione riguarda Mauro Valentini. Non posso non farti i complimenti per l'altro straordinario risultato raggiunto. Possiamo vedere delle foto che riguardano il premio Nadia Toffa che ti è stato consegnato, no? Insieme al generale Garofano, Luciano Garofano. Su una vicenda che peraltro abbiamo affrontato insieme qualche tempo fa. Esatto, sulla storia di Ciccio Ettore. No, io generalmente sono molto discreto su queste cose. Però non ci tenevamo a mostrarle. Però insomma ha un premio riferito a un personaggio come Nadia Toffa che insomma per chi fa il nostro mestiere con passione, insomma non può che avere come riferimento. Insomma fare inchieste di quel tipo era importante per lei. In qualche modo ci ha anche dato un po' una forma di questo. E sai, un po' il collegamento lo voglio fare perché secondo me manca, lo posso dire, manca appunto quel tipo di energia che spacca quelli che sono i filtri e il politically correct. E secondo me un'azione giornalistica di quel tipo ancora nei confronti di Emanuela, per la storia di Emanuela e Mirella, secondo me ancora manca. E poi chiaramente ci manca lei, ma manca anche chi poteva in qualche modo supportare questa vicenda e questo percorso giudiziario che è Andrea Purgatori. Che in qualche modo, come dire, abbiamo perso una memoria storica di questa vicenda. Per cui ti ringrazio per la citazione, ma io è chiaro che un premio così lo puoi dedicare se non proprio a chi è il nome stesso del premio. E io e Luciano Carofano, che ti manda i saluti, lo dedichiamo anche e soprattutto al papà di Ciccio Ettore che è vittima di meccanismi come quelli che stiamo raccontando qui, che lo hanno stritolato e messo in carcere addirittura e solo il puro caso, come abbiamo raccontato, lo ha riportato alla libertà, altrimenti avremmo avuto un innocente in carcere. E abbiamo visto in foto i riconoscimenti. Ultima cosa in chiusura di questo capitolo, vi ricordo che siamo già sul canale 122 del Digitale Terrestre. In questa puntata siamo sia sul 264 che sul 122. Da domani, lunedì 4 dicembre, possiamo anche vedere come ha riportato tag24.it, Cusano Italia TV passa sul canale 122 del Digitale Terrestre. Quindi risintonizzate naturalmente i vostri televisori per continuare a seguire non solo Crimini e Criminologia, ma anche tutte le altre trasmissioni che formano l'ampio ricco valinsesto della televisione dell'Università. Nicolò Cusano, linea alla regia, torniamo tra poco, sveliamo la lettera anonima che abbiamo ricevuto a proposito di Emanuele Orlandi e continuiamo a parlare anche delle inchieste della Commissione parlamentare. E ben ritrovati, secondo capitolo di Crimini e Criminologia, continua il nostro speciale dedicato a Emanuele Orlandi. Abbiamo parlato delle inchieste e soprattutto della Commissione parlamentare nel primo capitolo. Vi ricordo naturalmente domani chi dovesse essersi perso questa puntata veramente speciale e può recuperarla andando sul canale YouTube di Cusano Italia TV. In studio naturalmente sempre Pietro Orlandi e Mauro Valentini con il mio compagno di viaggio Gabriele Rao, ma adesso per introdurre il discorso lettera anonima ci colleghiamo con una grafologa molto molto brava, nonché giornalista. La ritrovo con piacere dopo averla intervistata la storia oscura su Radio Cusano Campus. Candida Livatino, buonasera. Buonasera Fabio, buonasera. Vediamo quello che è il suo ultimo libro di Candida Livatino che parla proprio di grafologia a livello criminalistico e criminologico, oltre che criminale. C'è proprio il libro che riguarda Candida Livatino. Possiamo anche mostrarlo dopo se ancora non lo troviamo, perché tra poco vi mostreremo invece le due, o meglio la lettera anonima, però vi mostriamo sia la busta perché l'intestazione relativa al destinatario, cioè il sottoscritto, e a Radio Cusano Campus è scritta in corsivo, l'altra invece è scritta al computer. E allora le vediamo, intanto leggo il contenuto, qui vedete, cortese attenzione, Fabio Camillacci, via Don Carlo Gnocchi 3, con il CAP 00166 Roma, presso Radio Cusano. Il testo invece si dice che presso la Procura di Roma sia conservato un documento datato 2019, relativo a una figura femminile. E qui inizia il rebus, una donna con il nome Mariano, tra virgolette, ricordo i nomi Mariani, Fatima, Lourdes, ecco per fare un esempio, con uno strano accento anglosassone americano, scritto in maiuscolo, riferimento al telefonista che chiamava la famiglia Orlandi all'inizio. Il nome prefigura ambienti celesti, elevati, intoccabili, necessari, di maggiore, con lo IOR evidenziato, con riferimento ovviamente all'Istituto Opere di Religione e la Banca Vaticana, di maggiore attenzione, sottolinea, la donna inconsapevolmente prevede Clear Stream e Bardoro Retriever, sembra quasi un film, il ladro di bambini, barra bambine, con la E in maiuscola, evidentemente è un riferimento a Emanuela. Questa lettera è arrivata, come detto, al sottoscritto in redazione, ho provveduto subito a chiamare sia Pietro che l'avvocato Laura Sgro, l'ho consegnata all'avvocato Laura Sgro, all'interno c'era un'altra busta con scritto Cortese, attenzione, Pietro Orlandi, forse per farci capire che il riferimento, anche se ci voleva poco, bastava leggerla, era Emanuela Orlandi. Pietro Orlandi nel frattempo questa lettera l'aveva già ricevuta, cioè una copia l'avevano mandata anche. Tu non avevi all'interno però un'altra busta, era soltanto la lettera, perché per esempio il Corriere della Sera e il collega Fabrizio Peronacci l'ha ricevuta identica all'interno Cortese, attenzione, Emanuela Orlandi. Ecco, ti chiedo subito un parere, poi andiamo dalla grafologa. Beh, diciamo, è l'ultima delle lettere. Ecco, ti chiedi, è l'ultima o ne sono arrivate altre? Allora, negli anni? No, 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 non dire di tempo. Allora, se intanto arriva qualcuna con le indovinelli, io devo dire che io sono anche un po' stanco di questa gente. Eh, soprattutto perché poi non c'è lui. Dopo 40 anni. Allora, se è un mitomane, pazienza, si qualifica da solo perché purtroppo ce ne sono stati, ce ne staranno ancora di mitomani che si divertono. Se è una persona che sa veramente qualcosa, io non riesco a qualificarlo perché dopo 40 anni ancora viene a fare gli indovinelli per capire le cose. Cioè, personaggi come questi. E come accetti? Mi sento accetti? Io accetti il primo giorno che l'ho incontrato dieci anni fa ormai, ho cominciato a fare gli indovinelli. Ci siamo incontrati, mi ha cominciato su un foglio di carta, ho cominciato a segnare dei numeri. Dio, Pietro, guarda questi numeri, dai, concentrati, cerca di capire. Forse ci arrivi. Questo è importante. Ha tirato fuori i sciarate e lui la continua a fare per anni. E questa lettera... Tu hai questo dubbio che possa essere lui? Ma può essere lui, ma può essere uno come lui. Io dico soltanto una persona, del genere, permettimi questa frase, non è utile. Perché se sai delle cose e continua a fare gli indovinelli non servi assolutamente a nulla. Te ne puoi tornare da dove sei stato fino all'altro giorno e basta. Perché a che ti serve? Mandare una lettera come questa con questi interrogativi. Ma che è un gioco? Ma è possibile per la gente dopo 40 anni ancora ha questa voglia di giocare? Che pensano? Uno si mette lì a cercare di tradurre, di capire. Poi, chi conosce bene il caso, i riferimenti li capisce, no? Però non si arriva a Dama. C'è solo questo aspetto della procura, questo riferimento alla... Ma sì, ma potrebbe essere... Ma potrebbe essere... Sai, tempo fa è uscita una questione legata proprio ad Accetti, alla questione della tomba, della Scherle, che è uscito fuori il nome di una donna, di una persona che forse potrebbe avere... Lo dice sempre lui, lo dice lui, lo dice il Corriere. C'è sempre questa volontà a portare questa persona al centro dell'attenzione. C'è sempre questa volontà che c'è stata. Adesso non dico che questa lettera sia lui, però se questa persona sa veramente delle cose, anche riservatamente, ma dille chiaramente, no? Cioè, scrivimi e dire Tizio e Caio, questa donna è così. Non è che fai gli indovinelli, che fai gli indovinelli o che scrivi IOR, che scrivi... Cioè, giriamo sempre intorno a quelle cose là. Poi le interpreteremo, cioè... Cioè, veramente questa gente non la sopporto più. Quindi convieni con l'appello che io feci il giorno dopo a Radio Cusano Campus, dicendo proprio se ci vuoi aiutare, se vuoi aiutare la famiglia Orlandi... Parla chiaramente, sennò torna nel silenzio, torna in silenzio e basta. Non ci dare enigmi da risolvere, perché non c'è bisogno. Non è più tempo dopo 40 anni veramente di dare retta a tante di quelle persone che ho capito che si divertono solamente. Ma sai quanto ero incontrate nel corso degli anni, tantissimi, no? Di persone che mi hanno fatto credere che sapevano qualcosa e che magari ti portano ad incontrarle queste persone e ti portano avanti mesi, mesi, mesi. Perché te dici, basta, non è che le lascio perdere, mi dico Dio, se questo veramente sa qualcosa... Quindi stai lì e aspetti che lui... Tra una settimana forse qualcosa, forse è meglio che ci incontriamo. Ti mandano un pezzettino che ti mette il dubbio. Quindi va avanti, va avanti, va avanti. È uno stilicidio, è uno stilicidio vero e proprio. La grafologa Candida Livatino ci può aiutare un po' di più. Ha fatto un nome, Pietro, ovviamente l'abbiamo ipotizzato, quello di Accetti. Però lei ritiene che chi ha scritto l'intestazione sia una persona caratterizzata da tratti narcisistici ed egocentrici. Sì, direi anche qualcosina in più. Quindi trattandosi di una lettera anonima, lo scrivente ha usato il computer per il testo e lo stampatello per la busta. Lo stampatello è una scrittura spersonalizzata, appunto una scrittura anonima. Quindi dallo scritto della busta sono riuscita comunque ad estrapolare qualche elemento sulla personalità dello scrivente. Le lettere che dovrebbero essere curve, perché anche in stampatello la O la fai arrotondata, sono invece quadrate e ci sono anche molte angolosità che segnalano una persona aggressiva, priva di valori, che vive in un mondo creato dalla sua fantasia. Quindi è una vera inventa. Va via un po' la voce, non so se mi sentite. No, noi la sentiamo. Sì, sì, la sentiamo. La sentiamo. Ah, ok. Inoltre sono le sue pause, ma non si preoccupi. Forse noi c'è un ritorno fastidioso. No, le parole vengono spezzate. Sì, succede. Però noi le sentiamo. Va bene, ok. Va bene, scusate comunque. L'energia che imprime sul foglio non è omogenera, se osservate male. Alcune lettere sono addirittura ricalcate e quindi a volte calca, altre volte meno. È il segnale di un'energia non ben gestita che trova uno sfogo in atteggiamenti aggressivi che lo gratifica ma non in maniera gratificante. La sua personalità è caratterizzata appunto, come diceva prima Fabio, da un narcisismo infantile e da un forte egocentrismo. Poi vedete che ci sono dei tremoletti alle stentatezze, evidenziano tanta rabbia accumulata nel tempo e se non riesce a gestire può sfociare in atti violenti ed incontrollabili. Comunque io mi rivolgo al signor Pietro, che l'autore secondo me è un mitomane, una persona disturbata, quindi ha qualche problema. Vorrei segnalare innanzitutto che stanno arrivando molti messaggi, soprattutto di solidarietà nei tuoi confronti. Pietro, ci ha scritto anche Maria Antonietta Gregori, la sorella di Mirella, che ne approfittiamo direi per salutare con grande calore. Salutare e anticipare che domenica prossima sarà nostra ospite, proprio Antonietta Gregori, per parlare di Mirella Gregori, visto che peraltro sono accomunate dalla maglietta bellissima di Pietro. Poi ne parliamo anche di quella maglietta. Poi vorrei chiedere alla dottoressa Livatino, se stando alla sua esperienza professionale, è frequente che chi scrive lettere anonime, soprattutto in riferimento appunto a casi giudiziari così noti, faccia ricorso un po' a questo escamotage dell'intestazione scritta a mano, ma del corpo della lettera scritta invece in maniera che non si possa trarre alcun tipo di indizio dalla grafia. Ecco, ci troviamo di fronte ad una prassi abituale o è piuttosto raro e insolito e magari anche da questo elemento si potrebbero trarre delle riflessioni? Assolutamente sì, io faccio veramente tantissime perizie su lettere anonime, sono scritte stampatelle, perché lo stampatello è una scrissura spersonalizzata, tu ti stai mascherando, ma quello che mi ha colpito di più è quella busta, le ho quadrate, di solito sono rotonde in uno stampatello, quindi è una persona veramente disturbata. È stata chiarissima, abbiamo recuperato la copertina del libro di Candida Livatino, eccolo, grafologia e criminologia, killer e vittime, analizzati attraverso la loro scrittura, e ci ha aiutato appunto a tracciare un po' un profilo di chi può aver scritto, chi ha scritto appunto questa lettera. Volevo sentire anche Mauro Valentini, quindi mitomere per Pietro, mitomere anche per la dottoressa. Assolutamente sì. Io faccio un appello a questi farabutti, a parte veramente curatevi, perché obiettivamente credo che uno che scrive una cosa del genere obiettivamente fa una vita molto difficile ed ha anche dei disturbi molto seri. Per quanto riguarda quello che scrivono, è quello che dice Pietro, se io le so, se qualcuno conosce delle verità che sono utili o pensa di essere utili, lo dica, che questi giochetti qui non siamo né al varietà né al... non stiamo leggendo un racconto di Ellery Queen, qui stiamo parlando di gente che ha perso la sorella e la sta cercando. E veramente questa io la trovo una infamata nei confronti di Pietro, ma veramente... ma... è quasi, come dire... e poi non è l'unica che ne riceve continuamente da 40 anni. E non è la prima che arriva scritta in stampatello con la O quadrata. Questo è importante. Se mi permettete, scusate. Prego, dottoressa. Ecco, quindi secondo me allora è sempre la stessa mano. Se lui mi dice, se il signor Pietro dice che spesso trova questa O quadrata, probabilmente è la stessa mano. Quindi è la stessa mano. C'è una frase riferita a oro, scusa perché non la vedo da qui. Sì, infatti noi abbiamo ovviamente approfondito e cercato di interpretare il riferimento che riguarda l'oro. Com'è la frase? Com'è la frase, dico? La frase la rileggiamo e poi abbiamo pensato subito al bar di Mirella Grigori. Esatto, infatti era quello che dicevo. È uno dei passaggi per altri un po' più, diciamo, anche grammaticalmente un po' più sconnessi. Esatto, perché la donna della lettera inconsapevolmente. Tra parentesi c'è un punto esclamativo e uno interrogativo. Puntini, prevede Clearstream, banca lussemburghese, riferimento evidentemente andaste in Lussemburgo, quella volta che sembrava si trovasse lì, Emanuela. 93. 93, quindi chi conosce il caso fa facilmente riferimento. E bar d'oro retriever, che è anche una razza di cani il retriever, l'ho saputo, ma bar d'oro, in tanti, ecco, come si chiamava? Coppa d'oro, via Valdurno. Ce l'avevamo noi in Golden Retriever. E voi avevate il Golden Retriever. Un mischione fatto da chi vuole divertirsi e cercare la ribalta. Qualcuno ci è riuscito ad avere la ribalta? Io spero che questo qui se è diverso da chi l'ha già avuta, la ribalta, speriamo che questa volta ci si risparmi un ennesimo personaggio che venga qui a raccontarci a fare i rebus, perché obiettivamente, ripeto, gli faccio un appello, cura, trova un professionista serio perché secondo me devi in qualche modo risolvere quello che hai. Sì, ricordo a proposito della banca Clearstream a cui si fa riferimento, attività bancarie, finanziarie su scala europea con movimentazione di fondi di entrata e uscita da Lussemburgo. Poi ricordavamo quella grande delusione per la famiglia Orlandi nel 1993 e qualcuno fa riferimento anche al bar Tazzadoro vicino al Pantheon, zona, comunque Limitrofa, dove... Ma comunque c'è riferimento a loro. Quello che però hai sempre detto tu, no? Una questione di soldi dietro Emanuela. È una delle ipotesi. A posto, quindi, tra l'altro, anche all'interno di questo rebus non è che ha messo delle cose... È quello che... chi conosce bene il caso risale facilmente a quello che vuole dire. E a che scegliere? Non c'è riferimento. Non c'è nessun riferimento al flauto. Stavolta il flauto non c'è. Volevo chiedere una cosa alla grafologa. Non riguarda la parte scritta a penna, a penna, ma riguarda il testo scritto al computer, perché il misterioso autore evidenzia 2019 in eretto. Questa... È chiaro, lei su questo forse non ci può dire molto, no? Perché questa è una scrittura al computer e non a penna. Certo. Però, chi fa queste cose magari lo fa l'evidenzia a penna, c'è qualche tratto distintivo. Certo, il 2019 l'ha evidenziato calcandolo. Ritorniamo anche al discorso dell'energia. Ecco, quello che ci diceva prima. Esatto. Qualcuno ha ipotizzato che nel 2019 è l'anno in cui sarebbe stato acquisito un documento particolare, quindi è evidenziato con il neretto come a voler inviare un messaggio sottotraccia ad ambienti giudiziari. Beh, il 2019 comunque l'inchiesta era chiusa. L'inchiesta era chiusa, però c'era stata la questione delle tombe al Teutonico poco prima, cioè nell'estate. Sì, e poco prima c'era stata la questione di Londra, dei Cinque Fogli, della Cassaforte. Quindi il 2019 può essere un anno... Beh, le tombe... Non si può risalire... Perché l'Avvocato Sgroa mi ha detto ci sono migliaia di fascicoli in procura a Roma, no? Sarebbe impossibile risalire. Tra l'altro in questi fascicoli si stavano fino a poco tempo fa perché ho richiesto e avevo l'accesso. È una stanza, cioè era una stanza solo per Faldoni su Emanuela e Mirella per quello che è successo, no? una parete di Faldoni, dall'altra parte tutti i materiali alberi, tutti i cd e quelli sono... L'altro giorno, qualche settimana fa ci sono andato con Laura con Sgrolla, l'avvocato e non c'era più niente, era completamente vuota e ho chiesto a che fine hanno fatto? Dice no, l'acquisiti Luciani, Luciani il magistrato che adesso ha preso in carico l'inchiesta. Quindi io lo vedo un po' come un minimo di speranza perché se fino adesso la procura ha fatto un po' come dire i compitini di quello che gli aveva chiesto Didi del Vaticano e ha archiviata quella situazione tristissima se poi te la racconto bene dopo quella dello zio e forse adesso ha archiviata quella situazione magari si hanno ritirato tutto il materiale vuol dire è un buon segno e potrebbe esserci che stanno lavorando sì, che vuol dire qualcosa vorranno fare perché un'inchiesta è aperta parliamoci della l'inchiesta è aperta è stata riaperta fino adesso invece l'avevo aperta all'inizio su richiesta di Didi perché Didi quando fu convocato Didi mi disse chiaramente chiederò l'aiuto dillo voi per certe cose quando si parlava della famosa audiocassetta di Marcello Neroni l'offesa a Giovanni Evalo II lui l'ascoltò là davanti a me senza i bip e disse ma io devo indagare dappertutto certo questa è una cosa un po' pesante questa persona sicuramente è da ascoltare Marcello Neroni ha detto però in questo chiederò l'aiuto allo voi perché io dovrei fare una rogatoria quindi chiederò l'aiuto allo voi di ascoltarlo e poi di riferire a noi quindi all'inizio la procura si è mossa su richiesta del Vaticano e però se posso a me quello che ha fatto all'inizio è stato di una bruttezza cioè il Vaticano e la procura di Roma non erano scesima a livello così basso come hanno fatto nell'ennesimo tentativo poi di frenare la votazione al Senato la votazione al Senato dopo quest'altra dichiarazione riaffermata dichiarazione di alcuni senatori beh certo se c'è la famiglia di mezzo come le buone ottime indagini stanno portando avanti il Vaticano a che serve una commissione parlamentare loro hanno tirato fuori io me ne sono accorto dopo dopo ho pensato che queste cose quando mi hanno ascoltato Didi mi ha ascoltato per otto ore loro già erano mesi che indagavano ma indagavano su quella questione trovare il modo di scaricare sulla famiglia e l'hanno trovato nel modo più becero come l'hanno presentato Mentana che ha dato questa notizia senza che noi sapessimo nulla ma se tu vuoi fare delle indagini sulla famiglia ed è giusto farle convochi le persone e chiedi non è che hai un sospetto lo spari immediaticamente però è inutile noi abbiamo fatto la conferenza stampa il giorno dopo ma questa cosa per farti capire la procura già doveva dire a Vaticano questo è sistemato perché loro hanno in mano la procura i documenti di quando 40 anni fa si è indagato su questa cosa la cosa brutta loro e voglio dirlo perché mi dispiace che hanno voluto tirare in mezzo mia sorella Natalina per una cosa che non c'entrava niente con la scomparsa di Emanuele è molto scorretto è successa perché voglio raccontare è successa questa cosa come mi ha raccontato Natalina 5 anni prima della scomparsa di Emanuele nel 78 noi guarda come le persone che abbiamo sempre studiato in Vaticano siamo persone forse diverse dagli altri nel senso siamo persone più ingenie di questo mondo viviamo in una bolla di vetro non pensavo che esistesse il male mia sorella è andata a lavorare in Italia 22 anni non una minorenne anche se sono sui giornali tentativo di stupro 22 anni e c'è stato come mi racconta lei il mio zio acquisito che è il marito della sorella di mio padre che ha detto che diciamo in gergo che ha fatto delle avance ma ha detto non mi ha toccato neanche con un dito voglio dire anche se è una cosa non bella ma adesso tutti i giorni può succedere anche nella normalità che è un 46 anni circa quanti anni aveva può perdere la testa appena 22 anni può capitare quando ha capito Natalia ha detto che non c'era niente da fare tra l'altro è pure scusate è finita lì durata due giorni basta poi i rapporti sono pure continuati nel tempo normalmente non c'era proprio un motivo no è finita lì c'è stato questo scivolone come possiamo dire che ha sbagliato per come andava a sbagliare però i giornali l'hanno riportato come un abuso come una molestia è finita lì Natalina però che ha fatto proprio perché noi viviamo in questo mondo aveva il suo padre spirituale che era una bravissima persona Monsignor Serna che era stato vicino a noi ragazzi ci aveva aiutato tantissimo e Natalia si è confidata con lui gli ha raccontato questa cosa che faccio adesso mi sento si sentiva strana lei in quella situazione lei alla camera poi lavorava sì e lui ha detto ma la cosa come è finita anche lo zio lavorava alla camera al bar sì sì lavorava lì dice come è finita no è finita così gli ha spiegato dice va bene è successo niente e basta e quindi l'ha superata evidentemente quando è successo di Emanuela nell'83 non so cosa sia successo se questo Monsignore l'ha riferito il segretario di Stato o l'ha riferito direttamente a Siga che si occupava Siga ha convocato Natalina e Natalina le ha detto questa cosa è vera Natalina le ha spiegato la situazione e è finita là Cavaliere che era il capo della Mobile lui ha detto chiaramente poco tempo fa cioè loro non hanno indagato affatto mio zio per quella questione per quella era una questione chiusa che non c'entrava nulla lui ha indagato perché è normale che sia si indaga sulla famiglia siccome mi ha detto vediamo questo zio molto attivo che si dava da fare ritirarla fuori cioè è rispettito vediamo all'epoca di 40 anni fa hanno indagato su mio zio giustamente quando abbiamo capito che quel giorno non c'era che non c'era nulla che lo potesse legare a questa storia lì è finita è stato archiviato quindi ritirarlo fuori è stato veramente guarda caso per insinuare per gettare le situazioni sulla famiglia durante la commissione che doveva partire capito infatti la commissione ha rallentato e che cosa ha fatto che ha sparito l'altro giorno in aula ha detto la cosa più brutta è questo mondo te in aula dici poi qua si attacca tanto Voitiva ma non dimentichiamoci che al momento c'è un sospettato il signor Mario Menevuto fatto nome e cognomeno che è morto da anni è chiaro poi fa giorno non c'è un sospettato perché adesso non esiste un sospettato fatto bene a precisare è un senatore della Repubblica che si mette lì pubblicamente a dire c'è un sospettato quindi ha dimostrato di parlare senza sapere come stanno le cose in questo momento è stato scorrettissimo Gabriele vorrei fare una domanda volevo chiedere un chiarimento ulteriore dobbiamo chiudere abbiamo poco tempo io voglio salutare anche la dottoressa Rivadino pensavo che fosse una domanda per lei pacchiosa devo parlare meno io mi lascio troppo andare no 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 tu parli va benissimo è che abbiamo poco tempo e quello è il problema i blocchi poi sono tassativi il fatto è che è appena arrivato un messaggio ci contatta Giovanni Pacitti che l'autore di questa maglietta ecco l'autore di questa maglietta è anche il curatore del blog di Emanuele Orlandi che pone un tema che brevemente direi di esaurire perché è molto importante il tema della trasparenza ci invita appunto a divulgare televisivamente questo messaggio soprattutto ai parlamentari che si occuperanno in commissione del caso a pubblicare di invitarli a pubblicare il materiale che auspicabilmente riusciranno a produrre vorrei quindi un commento così in generale sulla trasparenza anche sulla trasmissione di dati però non abbiamo il tempo forse non abbiamo il tempo riprendiamo dopo la dottoressa Liva Tino la devo anche salutare grazie grazie dottoressa il suo prezioso contributo e rivediamo anche il libro della grafologa e giornalista che ci ha aiutato a capire insomma con chi abbiamo a che fare a proposito della lettera anonima grafologia e criminologia grazie e la leggo io personalmente anche immagino tanta altra gente su giallo il settimanale con cui siamo in sinergia perché la dottoressa ha proprio una rubrica su giallo dove approfondisce le lettere che arrivano dai lettori descrivendo poi le caratteristiche prendendo spunto dalla lettura ma anche di grandi del passato una volta a settimana una volta Leopardi una volta Mozart per dire insomma qualche nome più famoso questa settimana c'è Maria Callas quello che uscirà giovedì prossimo no no già è uscito Maria Callas ah quello che è uscito e il prossimo ce lo può dire ce lo può anticipare non mi ricordo perché io li mando ah ok va bene perché il settimanale giallo esce ogni giovedì grazie dottoressa per essere stata con noi tra poco ripartiamo da qui dalla maglietta da Giovanni Pacitti da questa intanto continuano ad arrivare molti molti messaggi di solidarietà non solo alcuni anche che pongono delle domande effettivamente interessanti che riguardano molto il Vaticano ripartirei quindi da lì dopo la pubblicità ripartiamo da qui anche perché poi dobbiamo anche parlare a proposito sempre di segnalazioni anonime queste persone sono più in buona fede rispetto a chi ha scritto la lettera parliamo di due sensitivi agrigentini che ci hanno scritto e poi tra poco vi mostreremo quello che ci hanno scritto quindi restate con noi restate con crimine e criminologia ben ritrovati questa è la penultima parte di crimine e criminologia di oggi ma è l'ultima dedicata a Emanuele Orlandi devo dire che questa ultima parte è proprio dedicata a Emanuele Orlandi perché tra poco parleremo di un'opera che è ispirata proprio alla scomparsa di Emanuele e poi parliamo anche di quello che ci hanno scritto due sensitivi agrigentini che abbiamo anche riportato che poi è l'ultima lettera che vi faremo ascoltare scritta da loro è particolarmente toccante vicina alla famiglia di gente che vuole fare qualcosa non come l'anonimo che ci ha mandato quell'altra lettera che vi abbiamo mostrato peraltro per tornare con Pietro Orlandi che aveva ipotizzato potesse trattarsi o possa trattarsi di accetti aggiungiamo che l'ultimo riferimento il ladro dei bambini è il film di Gianni Amelio e Amelio è il PM che ora sta seguendo il caso di Gatti Scherl quindi per qualche cosa dove è indagato accetti ecco quindi tutto tutto torna ripartiamo da quella maglietta però che la possiamo rinquadrare perché il protagonista di quella maglietta cioè l'autore come lo possiamo chiamare lui fa parte del gruppo diciamo che da anni segue la vicenda di Emanuela su Facebook anche un blog dicevi lui ha fatto questa maglietta perché era una giornata che abbiamo dedicato Emanuela a Mirella era il 16 gennaio 2016 esatto due giorni dopo quello che è il compleanno di Emanuela che è il 14 io vorrei dire di Giovanni Facitti una grandissima persona lui cura il blog quello di Emanuela blog Emanuela Orlandi all'interno di questo blog c'è una sezione diario di una storia vera e lui forse è la parte più completa che riguarda la vicenda di Emanuela e Mirella scritta in tantissimi anni cioè di libri ne sono stati scritti tantissimi lì è proprio parte da credo mi sembra sei mesi prima dell'ottantà prima della scompersa tutti i fatti accaduti e dal quindi la scomparsa di Mirella Gregori a maggio Emanuela Giugno e da lì elenca tutti i fatti minuziosamente senza dare un'ipotesi ma veramente a me quando qualcuno mi dice che posso che libro posso leggere per capire vai sul blog perché lì veramente c'è scritto tutto gli interventi qualunque cosa io stesso ogni tanto quando di un periodo mi ricordo una cosa me lo vado a cercare perché lì ci ha messo tutto quanto ha fatto un lavoro eccezionale e io lo ringrazierò sempre per quello e lo salutiamo questo che ci sta seguendo allora facevo riferimento prima a due sensitivi agrigentini che hanno scritto tra l'altro è successo tutto a novembre prima la lettera anonima a Radio Cusano e poi al 334 92 29 505 che non è solo il numero di crimini e criminologia ma è anche quello di Radio Cusano Campus e della storia oscura è arrivato il messaggio che ora andiamo a mostrarvi con tanto di spicheraggio del sottoscritto la voce del sottoscritto queste parole in musica di un'altra segnalazione da parte di due sensitivi d'agrigento vediamo siamo due sensitivi agrigentini e siamo a conoscenza di fatti che potrebbero portare al ritrovamento di Emanuela Orlandi tra le innumerevoli stanze all'interno del Vaticano esiste una stanza di circa 20 metri in una parete di questa stanza è affisso un quadro con l'effigie di una ragazza simile a Emanuela Orlandi quello che siamo riusciti a scoprire con le nostre doti sensitive è il fatto che all'interno di questa parete c'è il corpo di Emanuela quindi per noi il corpo di Emanuela Orlandi è murato dietro questa parete perché durante quel periodo storico si è saputo che Emanuela aveva visto e sapeva troppo dei festini sessuali che si consumavano all'interno del Vaticano e per questo motivo uomini del Vaticano con l'aiuto di qualche componente della banda della Magliana la uccisero fatto certo è che Emanuela è scomparsa ma a seguito del suo omicidio il nostro appello è di cercare Emanuela Orlandi all'interno delle mura Vaticane e non fuori di esse siamo e rimarremo sempre vicini alla famiglia Orlandi in particolare a Pietro che nel corso di tutti questi brutti 40 anni non si è mai arreso noi sappiamo che nel corso degli anni la Chiesa ha nascosto troppe cose su Emanuela e che potevano portare alla fine della Chiesa stessa il Vaticano è complice di tutto questo e noi come sensitivi sentiamo che il Vaticano ha paura a dire che fine ha fatto Emanuela altrimenti sarebbe la fine della fede cattolica vorremmo che il signor Pietro Orlandi leggesse questi messaggi per capire che noi siamo dalla sua parte e lotteremo insieme a lui affinché la verità su Emanuela esca fuori e finalmente la famiglia Orlandi possa sapere che fine ha fatto la povera ragazza la nostra sensitività nasce fin da piccoli vedevamo e sentivamo cose che gli altri non potevano percepire e ribadiamo tramite una visione abbiamo percepito che Emanuela potrebbe trovarsi tra le mura vaticane non lo facciamo per un tornaconto personale ma solo per dare una mano alla famiglia Orlandi che soffre da oltre 40 anni questo è il messaggio dei due sensitivi agrigentini Pietro Orlandi nel loro caso ha detto si sente che sono persone in buona fede poi faremo vedere anche la lettera per Emanuela che hanno voluto scrivere ma sicuramente sono persone in buona fede che lo fanno con la voglia la volontà di aiutare certo quello che dicono è irrealizzabile da verificare perché in Vaticano una stanza con una parete o un quadro che io credo che ci siano centinaia di pareti con centinaia di quadri ma di più e come fai a verificarlo? Vai in Vaticano vorrei verificare e abbattere io ho provato perché ci ho parlato ho provato a insistere hanno anche detto in una visione hanno fatto riferimento agli appartamenti del Papa ecco questo ancora più difficile cioè una cosa irrealizzabile cioè nessuno mi darebbe retta e mi farebbe accedere agli appartamenti e poi oltretutto sinceramente io non cioè li ringrazio veramente per la perché si capisce che sono persone che vogliono si hanno insistito molto guarda nel corso degli anni peraltro nemmeno i nomi vogliono tantissimi sensitivi ho seguito io mi attacco a qualunque cosa anche perché certe volte quando qualcuno dice sono un sensitivo e penso questa cosa io penso anche che magari non è un sensitivo è uno che sa veramente qualcosa e dice sono un sensitivo e quindi vuole dare una mano e quindi posso verificare quando è verificabile la cosa ma come in questo caso è impossibile è impossibile da verificare poi perché cercare il manuale dentro una parete io sinceramente poi non qualunque sia stato il movente quello che raccontano loro ma io penso l'ultima cosa che il Vaticano farebbe aiutato da quelli della bandana della Magliana a murare Emanuele all'interno del Vaticano dentro una parete cioè non lo farebbero non lo farebbero mai non avrebbe lascerebbero dei testimoni dovrebbero far fuori pure tutti quei testimoni della Magliana che hanno aiutato a fare quella cosa non è una cosa possibile e poi ho detto io naturalmente io finché non troveresti la cerco viva ah chiaro io sto cercando come dice il libro della Sgro io sto cercando Emanuela e la Sgro ha sempre detto noi la troveremo e non vado a cercare un muro dove potrebbe essere sepolta Emanuela perché però dicevo quest'ultima parte la vogliamo dedicare proprio a Emanuela anche con l'ospite che ora vado a introdurre infatti è un'artista la salutiamo con piacere grazie anche per averci segnalato proprio quell'opera Francesca De Bartolo in arte Mistral buonasera e benvenuta salve ben trovata grazie peraltro so che già ci sono stati dei contatti in passato con Pietro Orlandi diciamo che aveva già in qualche modo visto l'opera allora l'opera di Francesca De Bartolo in un minuto ve la presentiamo e poi ce la descrive perché si chiama Enigma ed è ispirata alla scomparsa proprio di Emanuela Orlandi vediamo Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E c'è il tema della donna, che Emanuela comunque è una ragazza, oggi donna, e in quest'opera, che ovviamente dal vivo magari ha un altro impatto dove si possono vedere dei particolari, ed è un'opera molto grande. Ha tanto da raccontare, ma non è un po' come dicevano prima gli altri interventi, un qualcosa di negativo, nel senso che è un qualcosa di positivo, perché io la immagino e la penso viva. Per cui è una ragazza scomparsa, che in questo caso ha dietro una storia che veramente è un enigma, in quanto tante situazioni si sono accavallate, innescate e quant'altro. Dove praticamente questa figura nella mia opera si vede dall'alto che cammina, quella che parla è la sua ombra, perché per me è come se lei fosse stata privata della sua identità, come se vivesse nell'ombra. E su questi San Pietrini, sui quali lei cammina, c'è questo racconto, un racconto che si intravedono delle architetture che conosciamo qui a Roma, delle architetture antiche, e si intravedono i San Pietrini, si intravedono sulla destra questa sorta di detective board, che racconta dal manifesto della scomparsa di Emanuela a tante altre cose che dal post-it, alle varie ricerche fatte, però vorrei far notare queste linee che sono strade e lotti, in quanto io ho fatto una ricerca prendendo questo estratto di mappa della zona del Vaticano, dove ovviamente la famiglia Orlandi ha vissuto, che è il colle Vaticano, quindi racchiude tutta questa zona ed ho inserito un lotto in più. Tutta questa storia enigmatica, tutte queste scritte che riuscite magari a intravedere, hanno una forma criptica di racconto, perché alcune cose sono decifrabili, altre no, ognuno di noi nasconde dei segreti, ovvio, però vorrei sottolineare il fatto che questa figura, questa donna che comunque è il tema delle mie opere in generale, che deve lottare contro le ingiustizie, è fiera, ha un viso positivo, nel senso che cammina fiera e prima o poi la verità si innalzerà, ed è tra la luce e l'ombra, perché noi tutti lottiamo quotidianamente tra il bene e il male. È un'opera dove poi si potrà vedere, sarà esposta immaginiamo, è una sua opera personale. È esposta, l'ho iniziata lo scorso anno e terminata quest'anno, verrà esposta in un progetto sulla storia del crimine, che ancora però è top secret, perché dobbiamo finalizzare un po' di cose. Una battuta da Pietro Orlandi, non è la prima opera dedicata a Emanuela, ne parlavamo, comunque tanti artisti. Intanto la ringrazio perché mi piace e soprattutto perché vedo dietro non c'è soltanto il talento di una persona, ma dello studio che questa persona ha fatto per rappresentare Emanuela su un quadro. Io sono contento quando le persone in qualche modo vogliono ricordare questa storia attraverso il proprio talento, attraverso la propria possibilità e le proprie capacità. E lei sicuramente ha delle capacità, è un talento pittorico notevole e quindi l'ha dimostrata attraverso quel talento. La solidarietà dei finanzii può dimostrare in tantissimi modi e questo è uno dei modi. E questo soprattutto perché ci tenevamo, come detto, a parlare anche di Emanuela, a dedicare qualcosa a Emanuela, non solo parlare di inchieste, di commissioni parlamentari. Io ringrazio l'artista in collegamento, purtroppo abbiamo pochissimo tempo a disposizione, però è stato bello comunque mostrare quest'opera pensando a Emanuela. Grazie Francesca di Bartolo Mistral. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie. Gabriele, volevi... Beh, direi di introdurre la nostra consueta rubrica a questo punto. Credo che ci sia, chiediamo conferma alla regia, è tutto pronto, no? No, ancora no, allora... Perché, allora, nel frattempo, mentre approntiamo il collegamento per la lente di ingrandimento, un po' di messaggi. Sì, un po' di messaggi che, diciamo, indirizzano la nostra attenzione in varie direzioni. Ne scelgo, ne seleziono soltanto alcuni, cerco di essere sintetico per ragioni di tempo. Pietro, mi ha colpito molto la scorsa volta che, poi la prima volta che ti ho conosciuto, quando ti ho intervistato per Filo Giallo, tu mi hai parlato un po' della tua esperienza, della vostra esperienza di vita interna al Vaticano. Mi hai detto una cosa che non sapevo che mi ha colpito moltissimo, sia che, non so se è ancora così, ma di fatto Emanuela Orlandi risulta essere di fatto cittadina vaticana ancora oggi, nonostante la sua scomparsa da moltissimi anni. Allora, approfittando di alcuni messaggi che un po' sollecitano, come dire, la nostra curiosità, il nostro interesse, mi domando, dati gli ultimi sviluppi che abbiamo discusso, ci sono stati delle maggiori manifestazioni di vicinanza, oppure anche un rilascio di informazioni, magari che in passato non c'era stato, nei tuoi confronti, e non parlo soltanto dei vertici del Vaticano, ma anche magari di altri cittadini, come te. No, sì, Emanuela intanto è ancora iscritta alla nana caratteristica vaticana come vivente, perché non abbiamo fatto male a dichiarazione di morte presunta. Quindi Emanuela è l'unica Orlandi che sta in Vaticano, perché mia madre anche abita in Vaticano, ma lei non si chiama Orlandi. Nata il 14 gennaio 1968, perlomeno. Esatto, e quindi è iscritta alla nana caratteristica vaticana. E la vicinanza di cui parlavi non c'era prima, non c'è stata adesso, e dubito che ci possa essere in futuro. Non ci sono altri sviluppi. Guarda, l'unica cosa è stata quando noi abbiamo chiesto a Papa Francesco di ricordare Emanuela, erano 40 anni, durante l'Angelus, e lui l'ha fatto. Quello per me mi ha fatto piacere, perché io quando ho detto... Ce l'abbiamo quel momento, però possiamo rivivere. Stavo cancellato un tabù, perché il nome Emanuela Orlandi, in Vaticano si dice ancora a bassa voce, il fatto che il Papa l'abbia ricordato, e quello è stato come un là anche per la Commissione, perché ti assicuro, dopo il Papa ha parlato, ci sono stati alcuni interventi, alcuni senatori, che hanno gradito quelle parole del Papa e sono stati tolti tutti gli emendamenti che erano stati messi per rallentare la cosa. Quindi quello ha avuto un senso, però non c'è stato nient'altro, non c'è stata una parola. Guarda, mi dice la regia che lo riviviamo quel momento, quest'estate, poi l'avevamo trasmesso proprio a Crimine e Criminologia, 25 giugno, era lo stesso giorno proprio, il 25 giugno, vediamo il momento, c'è anche Laura Sgro, possiamo anche sentire l'audio. Ora arriva, no? Ci ha fatto una finta Alessio, era pronto però non c'è più, è peccato perché è un bel momento. Però sinceramente lui dovrebbe fare qualcosa, lui ha la possibilità di fare qualcosa in più, lui ha aperto un'inchiesta va bene, ma quando ti rendi conto, perché lui si rende conto delle cose strane che hanno fatto in questa inchiesta, e tu avevi preteso chiarezza, anche lui ha preteso chiarezza, e indagare a 360 gradi, in ogni direzione vedi che le cose non stanno andando in quel verso, qualcosa in più dovresti farla, perché lui io sono convinto, lui ha conoscenza dei fatti, come lo erano i suoi progetti cessori. Allora, lasciamo perdere il discorso, introduciamo, se è incollegata, la dottoressa Fabbroni. Ecco, allora direi di lanciare la nostra rubrica, la nostra lente d'ingrandimento. Ed eccolo, naturalmente vediamo anche il titolo che abbiamo scelto per la lente d'ingrandimento, il mistero in Vaticano, 40 anni di bugie e depistaggi. Buonasera alla dottoressa Barbara Fabbroni. Salve, ben trovata. Buonasera a voi. Come sempre una chiosa, visto che siamo proprio in chiusura, dello spazio dedicato a Emanuele Orlandi. Veramente tanti argomenti, abbiamo messo al centro di questo tavolo. Beh, sì, assolutamente. Io credo di argomenti ce ne sono stati tanti, ma resta sempre l'amarezza che ancora ci sono persone che comunque fendono sempre di più e feriscono comunque raccontando, come avete mostrato voi con la lettera anonima, comunque creano situazioni anche di malessere, rinnovano il malessere, credo anche nella famiglia e in Pietro Orlandi. Io credo che, come dicevate prima, a queste persone forse è bene che diceva anche il dottor Valentini che si facciano curare. È importante che comunque a un certo punto lasciano il passo e non si mostrino sempre nella loro modalità narcisistica perché comunque diventano persone passivo-aggressive che aggrediscono ancora di più quello che è il mondo di questa famiglia che per 40 anni è ancora lì ad aspettare una risposta. Per fortuna dall'altra parte ci sono persone come la pittrice che mi ha preceduto che mostrano comunque qualcosa di diverso, lasciano un segno e comunque raccontano anche quello che è stato un vissuto, un'esperienza e soprattutto questo grande caso irrisolto, lasciando comunque aperta anche una finestra di osservabilità che possa permettere comunque quella speranza. Un po' io mi ricordo, come diceva anche l'avvocato Sgro, riporteremo a casa Emanuela. Io credo che questo sia l'intento di tutti quanti, soprattutto della famiglia, di tutte le persone che lavorano a questo caso costantemente, di riportare comunque sia a casa Emanuela perché credo che lo meriti non soltanto la famiglia ma soprattutto lei. Allora, riviviamo l'emozione del 25 giugno scorso in piazza San Pietro dopo il sit-in per Emanuela Orlandi, le parole di Papa Francesco con Pietro Orlandi, la moglie di Pietro, l'avvocato Sgro, tutti lì ad attendere durante l'Angelus che il Papa facesse il nome di Emanuela. Vediamo, sentiamo. in questi giorni ricordo il 40esimo anniversario di Emanuela Orlandi e mi chiedo a approfittare di questa importanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma per assicurare la mia preghiera. estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa. Bravo Santo Padre! Grazie. 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 Particolare i fedeli di tipo contatto, a Colombia. Bel momento, 25 giugno scorso con Pietro Orlandi in Piazza San Pietro. Siamo giunti al termine. La lettera che i sensitivi hanno scritto per tua sorella la proponiamo domenica prossima perché parleremo di Mirella Gregori, quindi comunque torniamo a parlare anche di Emanuela Orlandi. Ti volevo soltanto chiedere in chiusura un appello ai parlamentari, insomma, evitare lungacce e burocratiche. Di fare quello che avevano promesso, un promesso che si sarebbero impegnati e ci credo in questo e per impegnarsi però per andare avanti devono accelerare i tempi perché sì, sono passati 40 anni veramente, aspettare un mese, un mese, un mese, un mese è troppo e fatelo prima possibile. Presentate questi nominativi prima possibile ai presidenti di Camera e Senato affinché questa commissione possa partire. Io non vedo l'ora di essere convocato dalla commissione. Io so, sarò a completa disposizione 24 ore su 24 quando vogliono loro per qualunque chiarimento, sempre. E quindi l'appello lo faccio veramente a loro perché se quest'anno con tre inchieste aperte non riusciamo a fare un passo avanti la vedo dura nel senso perché non riuscirò a capacitarmi del fatto che nonostante tutto la ricerca della verità e della giustizia debba trovare sempre ostacoli eppure sono due parole che è già passato un anno dovrebbero essere i principi fondamentali di ogni Stato che si reputa civile. Verità e giustizia. Queste due parole invece vengono sempre calpestate e in questa storia ancora di più calpestate da uno Stato come quello del Vaticano da uno Stato italiano negli anni è stato così perché sono sempre state calpestate. Io mi auguro veramente in un cambiamento che ci sia uno spartiacco di quello che è successo fino adesso e quello che ci sarà da adesso in poi. Una battuta pochi secondi perché siamo in chiusura. Pochi secondi il segreto evidentemente è importante però sono passati 40 anni chissà dica quello che sa e risolviamola questa situazione perché veramente io credo che questo Paese possa diventare un Paese migliore avendo in mano una verità su Emanuela e una verità su Mirella. Brevemente anche la dottoressa Fabroni che ha già chiusato benissimo sulla puntata ma per chiudere del tutto questo spazio 20 secondi. Io credo che tutti i casi risolti hanno la necessità di avere comunque una soluzione anche perché dietro ci sono le vittime secondarie che sono i familiari sono i figli i mariti i fratelli e credo che questo sia doveroso da parte di uno Stato che deve guardare alla giustizia e alla verità. Grazie alla dottoressa Barbara Fabroni l'entra di ingrandimento torna domenica prossima quando parleremo di Mirella Gregori grazie a Mauro Valentini complimenti ancora per il premio Nadia Toffa a proposito di letteratura e di libri e grazie soprattutto a Pietro Orlandi e auguriamoci che mi date spesso di parlare e raccontare e soprattutto che appunto poi presto possiamo tornare a parlare di fatti concreti basta chiacchiere ma soprattutto fatti tra poco l'ultima parte torna crimini nei cieli altro argomento che farà discutere perché parliamo della strage di Ustica restate con noi grazie a tutti